218 anni fa, il 23 dicembre del 1798, i Borbone scarparono dal regno, fuggendo dal porto e dando ordine all'ammiraglio Nelson di far affondare le navi che non potevano partire con loro. Di lì a quattro settimane nascerà la Repubblica Napoletana del 1799. Dopo una fase di indagini sui fondali del porto di Napoli è stata portata a termine un'importante operazione di recupero di reperti archeologici relativi a quelle navi, nello specchio d'acqua compreso fra il molo San Vincenzo, il molo angioino è quello dell'immacolatella vecchia. Il simbolo dei ritrovamenti è questa campana in corso di restauro, che si somma ad una corvetta, quattro cannone di lunghezza fino a tre metri e munizioni. La corvetta non ancora oggetto di recupero potrebbe essere proprio la flora affondata da Nelson, mentre un'altra dovrebbe trovarsi nella zona del Molusiglio. L'occasione della presenza del presidente dell'autorità portuale e del sindaco siano sintomatiche di una comune volontà delle istituzioni a vario titolo coinvolte in questa come in altre iniziative di questo nuovo tracciato, di questo nuovo percorso che bisogna intraprendere. Napoli è una gran bella città, una città di grande storia, ci ha sempre tenuto ma forse aveva dimenticato questo suo ruolo di capitale, non di capitale economica ma soprattutto di capitale culturale del paese. Adesso è arrivato il momento, dal di là delle valutazioni di tipo sociale, civico e quant'altro, di ripristinare questo virtuoso percorso. Perché è un lavoro fatto dalla città con la collaborazione tra diverse istituzioni, tra cui la sorintendenza, l'autorità portuale, il comune di Napoli, il MAN e questo è il clima con cui si deve lavorare, puntando sulla cultura, sulla storia della nostra città, sulla bellezza e questo è un momento importante perché si portano alla luce dei reperti di un momento storico particolare, quando ci fu la rivoluzione partenopea e la Repubblica di Napoli del 1799, Borbone scappando dalla città fecero incendiare alcune navi, tra cui la corvetta Flora all'interno della quale sono stati rivenduti cannoni e campane che adesso saranno restaurate. Questo è il clima con cui si deve lavorare e questo è anche il modo con cui abbiamo voluto che all'interno del patto per Napoli ci fosse anche una misura sul parco archeologico di piazza municipio che mette insieme proprio questo modo di lavorare, infrastrutture moderne come la metropolitana, l'archeologia e l'arte contemporanea.